Occhio di bue Buongiorno a tutti Ma che sta succedendo qua? È successo un attimo di attenzione, sono Dante. Un tipo affascinante, sono un diverso, sono un don per le femmine, il mio fascino è eccezionale. Mando le donne all'ospedale, quando appaio sulle scene palpitante e saltellando ogni donna per me viene. Sono un pericolo costante, sono fine, sono bello col cilindro e col mannello. Con le donne ci so fare se mi metto a corteggiare, nemmeno dopo un minuto a Cotugno. Chiede aiuto! Oltre donne, non tante osso, che mi vogliono più nervoso! Ora tutti mi sono avuto, signor Devo chiedere aiuto! Calma Dante! Calma! Calma Dante! Calma Dante! Calma Dante! A Pari! Comprie! Dante, tu hai partecipato a diverse trasmissioni televisive, sei un grande amico di Toto Cotugno. Sì, sono la mascotte di Toto Cotugno. Di Sanremo, ci puoi raccontare? Sono 24 festivali di Sanremo, sono veramente la mascotte di Sanremo. Io e Sandro Ciotti siamo le mascotte di Sanremo. Sandro Ciotti e Scintennale sono le mascotte veramente del festival di Sanremo. 24 festivali di Sanremo. Nessuno! Tutte le belle ragazze. Poi questa meravigliosa compagnia, perché io qua sono venuto contento di portare piacere e ammiglia a questa meravigliosa compagnia! Bravissimo! Va bene, grazie! Bravissimo! 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 Ora, senti, per favore, vorrei fare pure poche parole. Se me lo consentite, poche parole. Bravissimo! Sono qui con tanto amore. Sono l'ospite da noi. Vengo qui da casa mia a festeggiare Santa Lucia! Bravissimo! Siete belli! Siete carini! Siete i bravi candelini! E a te il tuo alto voto d'ugno lo presenterò a todo voto d'ugno! E non sia mai imporioso, se diventerà famoso! Ora, per chiudere in bellezza, vi do un bacio e una carezza! Ora, ora, tutti applaudiamo il piore Robin John! Organizzatore sopraffino! Viva, viva il grandelino! Bravo! Nande! Posizione l'ospira! Benissimo! Un bel bel! Vai! Ok, Nande! Vi ringraziamo per essere venuto! Un applauso al Messie! Nande! Prego! Viva questo meraviglioso pubblico! Il sindaco di Rente rende noto che se Rente rendesse quando dovrebbe rendere Rente renderebbe di più di quando rende! Bene!